Siamo nella sede del Visual Computing Group del CRS4 dove vengono elaborati una grande quantità di dati con precisione e dettaglio. Il possibile utilizzo è quello del trasferimento di tali dati alle imprese. Un esempio è stato il gigante di Montiprama che sono diventati un video che ormai appare e mostra al Museo di Cagliari archeologico proprio perché i visitatori possono avere un'idea di come erano i giganti di Montiprama. Siamo con Ruggero Pintus che ci spiega come funziona tutto questo laboratorio. Sì, dunque quello di Montiprama è proprio un esempio importante di unione tra attività di ricerca perché è quello che facciamo noi istituzionalmente e ricaduta sul territorio. Perché attività di ricerca? Attività di ricerca perché l'esempio proprio di Montiprama, quindi il numero delle statue che sono state acquisite ed elaborate, era come si dice challenging, era una sfida. Perché? Perché l'acquisizione richiedeva l'utilizzo non di una pipeline standard ma di tecniche nuove e quindi noi abbiamo acquisito la forma, quindi la geometria e il colore delle statue in maniera innovativa sviluppando nuove tecniche. E poi, visto la quantità enorme di dati, è servita una grossa quantità di ricerca proprio nel campo della gestione di quelli che vengono chiamati Massive Model, modelli complessi. In questo senso, proprio come CRS4, come dicevo facciamo attività di ricerca, abbiamo sviluppato algoritmi per gestire in maniera semi-automatica questi dati. E come fine ultimo nostro, come nostro interesse ovviamente, è quello di presentare lavori a livello internazionale nella comunità scientifica. E questo è stato un primo punto importante di questa avventura perché nel 2013 alla conferenza Digital Heritage, che è la più grande conferenza europea di tecniche applicate ai beni culturali, tra 600 lavori quello riguardante le tecnologie sviluppate per Montiprama ha vinto il primo premio. 600 lavori che in un contesto assolutamente internazionale, cioè paper e lavori che venivano da tutto il mondo. Quindi dal nostro punto di vista già è stata una cosa vincente questa avventura di Montiprama. Ma ovviamente è molto importante anche dal punto di vista della sovrintendenza, l'altro ente pubblico che era interessato a questa attività. Uno per l'archiviazione. Avere le statue acquisite ad altissima risoluzione, sia in forma che in colore, è importante per la memoria futura. Noi abbiamo adesso in questo momento i dati ad altissima risoluzione come erano in un momento storico ben preciso. Qualsiasi cosa capiterà alle statue, come è successo purtroppo in altri casi riguardanti i beni culturali che si sono deteriorati prima ancora che potessimo acquisirli, potessimo ovviamente la comunità scientifica. In questo caso invece no, li abbiamo adesso e quindi qualsiasi cosa succeda abbiamo il dato. Quindi vengono catalogati, sono stati catalogati tutti i reperti riguardanti i ritrovamenti di Montiprama, in modo tale che per esempio un archeologo, uno studioso può direttamente guardare un vostro video, piuttosto che non avere il reperto a portata di mano, perché insomma anche un olandese può magari decidere di studiare i giganti di Montiprama attraverso il vostro video. Allora, cambierei due parole, catalogo e video. Noi non abbiamo fatto catalogazione, noi abbiamo con degli strumenti che si chiamano laser scanner e fotografia calibrata, abbiamo acquisito proprio le statue, nel senso che abbiamo una misura oggettiva del dato. Qui non c'è stato nessun lavoro di catalogazione, ma più che altro di misura. L'altra cosa, sostituirei video con visualizzazione 3D, nel senso che siccome noi adesso abbiamo la gestione di tutta la geometria, col colore, noi possiamo prendere questa geometria e tramite altri algoritmi, che si chiamano algoritmi di rendering, possiamo avere le statue in un server e in qualsiasi pc comune, con una connessione a internet o in locale, possiamo visualizzarli. Visualizzarli e anche ovviamente misurarli tramite interfacce che ci permettono di, posso fare degli esempi, effettuare misure lineari, estrarre delle sezioni, che sono cose standard nello studio archeologico, il fatto di disegnare sezioni per esempio, però in questo caso, per quello che mi voglio, diciamo voglio andare lontano dall'idea della catalogazione, in questo caso possiamo farlo usando il computer con una precisione assolutamente assoluta, senza errore umano, diciamo, o comunque aiutando, diciamo, l'archeologo a fare delle misure. E questo può essere fatto sia in locale che in remoto, il che vuol dire che, come si diceva prima, un archeologo olandese non ha bisogno di venire qua a vedere e anche a manipolare le statue, che comunque è sempre problematico dal punto di vista dei protocolli di accesso, manipolazione dell'oggetto artistico, che comunque è sensibile. Ma con una rappresentazione al quarto di millimetro, quindi altamente precisa, uno può fare queste misure anche seduto nello studio ad Amsterdam, sulle statue che invece fisicamente stanno qua. Un altro dettaglio importante è che, da un punto di vista della statuaria, questo dataset è attualmente il più grande come numero di punti e come numero di immagini. Per fare un po' di numeri, il dataset ha più di... tutte le 37 le statue hanno più di 3 miliardi e 700 mila punti. Quindi, attualmente, nella statuaria, quindi se non parliamo di cattedrali o di enormi siti archeologici, quindi statue o oggettistica, è il modello più grande, il dataset più grande disponibile. Quindi questo ci può anche dare, diciamo, visibilità sia nel lato beni culturali, quindi chi vuole studiare, appunto, gli archeologi che vogliono studiare questo dato, sia dal punto di vista della computer science. Grazie.